Buongiorno a tutti e benvenuti nel vostro canale. Oggi parliamo dei termistori di preciso di NTC e PTC. Un termistore è abbraviazione di resistore termosensibile. È un resistore che cambia valore con la temperatura, inclusa quella ambientale. I termistori si dividono principalmente in due categorie. NTC e PTC. Ognuno è fatto di un materiale diverso che reagisce alla temperatura in un modo diverso. Il simbolo del termistore è così. Sappiamo che questa è una resistenza. Il termistore ha questa linea così. Delle volte viene dimostrato anche in questo modo. Per definire NTC semplicemente è un tipo di termistore che diventa più conduttivo man mano che aumenta la temperatura, mentre in un PTC la resistenza cresce all'aumentare della temperatura. Come si fa a leggere un NTC? Eccolo qua. Qua abbiamo questo termistore NTC che è indicato sopra NTC 10D trattino 11. NTC indica la resistenza nominale in ohm del termistore. Ha una temperatura di riferimento solitamente 25 centigradi, nel mentre l'11 è spesso associato al valore beta del termistore che descrive come la resistenza varia con la temperatura. Un NTC non ha la polarità e viene messo in serie nel circuito. La tensione nominale delle abitazioni civili è 220 V alternata 50 Hz. Questa tensione dopo essere radirizzata dal diodo ponte che vedete qua, lo vedete anche qua, diventa 310 V continua che in realtà è 220 che si moltiplica alla radice quadrata di 2. E questa tensione elevata arriva ai questi due condensatori che lo chiamiamo anche i condensatori bulk. Vedete qua ce n'è solo uno, qua ne abbiamo due. Apro i parentesi. Un condensatore bulk è un tipo di condensatore utilizzato principalmente nei circuiti di alimentazione elettrica, specialmente negli alimentatori a commutazione. La sua funzione principale è quella di stabilizzare la tensione di uscita riducendo le fluttuazioni e il rumore elettrico. Allora quella tensione a 310 V entra direttamente in questi condensatori. Ma come abbiamo saputo nel video precedente, i condensatori all'inizio dell'accensione si comportano come un cortocircuito. E questo loro comportamento può causare danno sia al condensatore che all'impianto elettrico. Ma come facciamo a proteggere un circuito contro questo fenomeno? Utilizzando un NTC all'ingresso dove entra proprio la 220. Vedete, abbiamo qua, abbiamo anche qua. La corrente di inserzione in ingresso causa un picco transitorio della temperatura del NTC, facendo calare il valore della resistenza a un livello di perdita di energia minore dopo il picco. Sarebbe questo il punto che un alimentatore con un termistore all'inizio del suo circuito non fa corto al momento in cui attacchiamo la spina alla presa. Vi è capitato sicuramente di collegare la spina di un alimentatore alla presa e vedere una piccola scintilla. Faccio ancora un esempio. Guardate questo tubo di acqua. E qua abbiamo un rubinetto. Quando apro il rubinetto al massimo, acqua ci scorre con la massima velocità e potenza qua dentro il tubo e in uscita avremo un getto con una potenza molto molto elevata. Però, se qua ci metto una valvola, al momento che apro il rubinetto, l'acqua arriva qua con la massima potenza, ma la valvola cosa fa? Impedisce, diciamo, contro la potenza dell'acqua e si apre gradualmente. A questo punto, acqua con una velocità molto moderata arriva e esce dall'altra parte del tubo. E questo è ciò che fa un NTC nell'ingresso di un alimentatore a commutazione. Però, dove si usa NTC all'ingresso di un alimentatore? Nei circuiti in cui la tensione, dopo essere radirizzata tramite il diodo ponte, entra nei condensatori. Guardate questo alimentatore da banco che ho fatto anche un video per come crearlo, che qua sopra ve lo lascio. La corrente, con qualsiasi potenza, entra in questo trasformatore e dopo essere ridotta, tramite il secondario del trasformatore, entra il diodo ponte, dopodiché entra nel condensatore. E il condensatore non subisce quel danno dovuto al picco transitorio. Nel mentre qua, come vedete, la 220 entra qua, passa dal filtro. Il filtro è composto dal fusibile NTC. Ci sono i condensatori X. Qua c'è scritto, un giorno ne parliamo. Un induttore passa dai condensatori Y. Ne parliamo anche di questi. Un altro condensatore X. Poi arriva al diodo ponte. Perciò qua, prima di far entrare la corrente al diodo ponte, passa da questo filtro e poi entra qua, entra nel condensatore bulk, che è questo, come vedete, 400 volts. Abbiamo detto che la 220, quando entra, si moltiplica alla radice quadrata di 2, perciò diventa 310. È uno dei motivi che questi condensatori sono alti, devono essere oltre quella tensione. Ora facciamo la prova sul multimetro. Il multimetro ha i puntali che li ho collegati a questi due morsetti. prendo questo NTC, fatto in questo modo, 12 kOhm. Abbiamo detto che sono sensibili anche alla temperatura dell'ambiente. Vedete che cambia di continua, anche poco, perché sente quello. Se vado a toccare con due dita, si abbassa, vedete? Va giù. Se prendo un accendino, e ci avvicino. Guardate. Come si abbassa. Ora, lo allontano, non c'è più calore, inizia a salire. Funziona anche così un NTC all'ingresso di un alimentatore. La corrente elevata arriva all'NTC e quel picco transitorio fa calare il valore dell'NTC. Perciò cosa succede? Arriva la corrente elevata, ci vede tipo un ostacolo davanti, ma siccome questo ostacolo piano piano va giù, fa passare gradualmente la corrente e a questo punto non danneggia diciamo il condensatore dopo. Se andiamo a vedere anche l'altro, questo è un altro, questo è un altro, guardate, questo è 13 ohm. Vedete come si abbassa? Come dicevo, all'ingresso di un alimentatore non esiste solo un termistore. Guardate questo alimentatore, all'ingresso abbiamo NTC, fusibile, varistore e altri componenti. Un fusibile è in grado di proteggere il circuito dalle sovracorrenti, cioè sovraccarichi e cortocircuiti. il varistore serve a proteggere il circuito da fenomeni transitori di sovratensione. Questi tre componenti messi insieme creano un filtro che protegge il diodo ponte contro il picco transitorio che li attraversa e dopo il diodo ponte, questo, la tensione controllata entra nei condensatori o un condensatore e alla fine un PTC viene spesso utilizzato come fusibile ripristinabile in linea. Il rapido picco transitorio della resistenza al raggiungimento della temperatura di commutazione che lo rende perfetto per contrastare gli scenari di sovracorrente. Ok signori, abbiamo visto come funziona un NTC, cerco di fare un altro video per farvi vedere cosa sono i condensatori X e i condensatori Y e come fanno a proteggere il circuito. Alla prossima ci vediamo. Buona giornata.